ragazzi allora io e Maria Brusco stiamo qui stiamo facendo una live su Instagram quindi ragazzi spero che andate a partecipare sbrigatevi perché prime 5 ogni volta che manderanno un commento nel nostro canale o ovviamente nella live di Instagram avranno taggati e praticamente li saluteremo nel prossimo video quindi ragazzi spero spero che iniziate nella nostra live in un prossimo video e anche nella live, ciao